E' vero, non è una serie attualissima, ma vale la pena vederla, consiglio per chi non l'avesse ancora fatto, perché in fondo l'ipotesi di un secondo avvento contestualizzato a giorni nostri sull'etica e suscita grandi interrogativi. Il mondo riconoscerebbe il nuovo messia, siamo pronti o commetteremmo gli stessi errori? L'equilibrio geopolitico mondiale verrebbe sconvolto? Con quale mezzo di comunicazione di massa si presenterebbe? TV, internet, radio, ma sarebbe davvero il messia o l'impostore con altri fini e obiettivi? Al di là di qualsiasi considerazione questo prodotto Netflix merita tutta la nostra attenzione.